Il presidente non cambia. Sarà ancora l'imprenditore Lionello Gorza a guidare il Consorzio Dolomiti Prealpi, uno dei principali sodalizi della provincia, impegnati nella promozione del territorio. Nel consiglio che lo affiancherà va segnalato in particolare l'ingresso di Marco Vueric e Mario Fabrinetti, rappresentanti dell'area del Nevegal. Di recente il Consorzio Dolomiti Prealpi ha di nuovo vinto il bando per la gestione dell'ufficio turistico di Feltre, sportello al quale da gennaio a settembre si sono rivolti 2.306 visitatori nonostante la pandemia. Inoltre da quest'estate vengono gestiti anche i punti informativi di Belluna e del Nevegal e da pochi giorni è stata avviata una collaborazione con Borgo Valbelluna per l'ufficio turistico di Mel. E poi ci sono gli eventi come Discovery Valbelluna e Rad Race Camp, le collaborazioni, il nuovo Sinto Internet e molto, molto altro. È stato per tutti quanti noi, per tutto il settore turistico, un'estate difficile, però già all'inizio della pandemia noi ci siamo attivati per far fluire ai nostri soci tutte le indicazioni che venivano man mano, sia dalle gestioni di categoria che anche dai virologhi. Li abbiamo accompagnati anche all'apertura che non è stata facile e poi credo che quest'estate però attirando una somma possiamo essere anche abbastanza contenti. Infatti la nostra zona forse per la sua prossimità alla pianura verda è stata anche abbastanza fortunata. I prossimi passi da compiere sono quello di strutturare meglio l'accoglienza, dobbiamo organizzare il territorio in modo che l'immagine che in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni abbiamo fatto sia all'estero che anche in Italia grazie a DMO con le grandi iniziative, televisioni, giornali, e quindi chi arriva sul nostro territorio trovi veramente quello che le abbiamo promesso di trovare.